È giusto aver vietato l'ayahuasca in Italia, averla resa una sostanza illegale? Per quanto rispetti le decisioni dello Stato italiano, ritengo che sia stata una scelta poco oculata e ti dimostro il perché. Negli Stati Uniti è iniziato il proibizionismo anni e anni fa contro l'alcol. Il risultato? Il tasso alcolico negli Stati Uniti è elevatissimo, quindi il popolo americano ha detto no all'alcol, brutto, cattivo, eccetera, e quindi è stato proibito. Cosa è successo? Tanti alcolizzati. L'Italia, patria di bellezza, di conoscenza, dove si prende un bicchiere di vino e si annusa come un sommelier, c'è della bellezza in tutto quello, c'è della cultura in tutto quello. Risultato? Il tasso alcolemico in Italia è molto minore rispetto a quello americano. Che qual è la differenza? Che lo Stato italiano non ha compreso nel momento in cui ha deciso di abolire e di adottare questa attitudine, questo atteggiamento proibizionismo. Che non serve a niente proibire, serve informare, serve creare cultura, conoscenza. Eppure, vedi, tu puoi comprare la candeggina liberamente in tutti gli scaffali, ma se ti bevi la candeggina non è saggio. Non è saggio, no. Se la utilizzi in maniera cosciente per quello che serve, allora è saggio. E la stessa identica cosa funziona con l'ayahuasca. Se utilizzi e ti fai aiutare in maniera consapevole dall'ayahuasca, allora puoi ottenere grandi benefici. Ma se la proibisci, crei più danni che benefici. Errore, errore, errore. Rivedetevi, rivedete le vostre faccende. Avete fatto un errore incredibile. Diffondete questi messaggi.